A Milena Gabanelli Buonasera Buonasera, Milena non ha bisogno certo di presentazioni Una delle giornaliste più note e autorevole della nostra tv Dirige Data Room, la rubrica Il Corriere della Sera Che spiega i fatti attraverso i dati E proprio con lei di fatti, di dati e di percezione, di narrazione, di racconto parleremo E Milena, dunque, partiamo da Donald Trump Ieri è andato in Florida a fare un comizio elettorale davanti a 22.000 persone Molte senza mascherina Ha detto, bacerò tutti Trump, tra l'altro, è quello che dice che c'è poca differenza alla fine tra Covid e influenza Tu, portaci i dati, se puoi E così, Covid e influenza sono più o meno la stessa cosa? Beh, bisognerebbe portare a Trump o a tutti quelli che pensano che è la stessa cosa Una persona che si è malata di Covid e di influenza, così glielo può spiegare bene Comunque, i dati dicono questo Che l'influenza colpisce al massimo Cioè la contagia al massimo due persone Mentre la contagiosità del Covid è di 3,8 Ogni anno in Italia con l'influenza stagionale si ammala il 10% della popolazione Quindi sono circa 6 milioni L'1-2% finisce in ospedale Nel momento clou del Covid in ospedale c'è finito fra il 15 e il 20% Ora, il numero di morti La media di morti per l'influenza stagionale ogni anno è di 8.000 Nel 2015-2017 è stata particolarmente cruenta ed è arrivata a 24.000 nell'arco dell'anno Bene, da marzo a maggio i morti per Covid sono stati 35.000 Più propriamente 45.000 secondo i calcoli dell'ISPI Perché sono stati conteggiati nei 35.000 ufficiali Soltanto quelli che sono stati tamponati Mentre sappiamo che ci sono state tante morti che non hanno avuto il tampone E poi ci sono stati tutti gli effetti collaterali dovuti agli ospedali al collasso Vale a dire chi non è riuscito a curarsi in tempo Il tasso di letalità, ovvero la percentuale di decessi sul numero degli infetti Con l'influenza tra lo 0,1 e lo 0,4 Con il Covid è arrivata all'1,3 nel momento clou Quindi direi che questi sono i fatti C'è poco da dire Ma questa pandemia è riportata alla luce un tema che è di questi tempi Comunque il rapporto tra i negazionisti, i complottisti e il dato di fatto Tu dei dati di fatto hai fatto la ragione di una carriera Perché pensi che venga in questo periodo così facile scartare i dati per queste persone? Allora, intanto i negazionisti comunque esprimono un disagio Al quale evidentemente non sono state date risposte convincenti A questo si unisce la poca propensione ad approfondire Quindi sono nicchie che si formano Soprattutto sui social Ci sono sempre stati in realtà Però l'effetto social moltiplica E unisce al tempo stesso Tutte queste persone Alla possibilità di radunarle Puoi contarli E sembrano tanti Però poi in realtà Abbiamo visto insomma anche a Roma Non è che poi sono... Alla prova dei fatti sono pochi pure loro E' lontano da me l'idea di augurargli di prendersi una malattia Ah beh certo Quello non si fa mai con nessuno Senti Milena Torniamo all'influenza Allora sarebbe utile vaccinarsi Le regioni però dicono... Posso dire... Scusa Giovanni Posso dire una cosa che non c'entra niente con quello che stiamo andando a dire Però che mi preme Non credo che abbia grandi legami con i negazionisti Però l'utilizzo che si fa delle parole E' spesso molto distorto Allora mi riferisco al comitato tecnico scientifico Che ha partorito la definizione del distanziamento sociale Allora le parole hanno un significato E quindi se tu le utilizzi impropriamente Poi si creano delle confusioni Il distanziamento sociale c'è fra me e la regina d'Inghilterra Fra te e il principe Carlos Fra i ricchi e i poveri Fra chi è arrivato in cima alla scala e chi è rimasto in fondo In questo caso stiamo parlando di distanziamento fisico Chiamiamolo con il loro nome Perché è veramente brutta Cioè leggere per terra distanziamento sociale Cioè è orrendo E in qualche modo l'ha detto anche oggi il presidente Conte No, non una cosa è la distanza tra le persone Una cosa è la distanza sociale Senti Milena Torniamo all'influenza Bisogna vaccinarsi però Medici di base Denunciano ritardi Tempi incerti Possibile esaurimento delle dosi dei vaccini C'è stata in preparazione delle regioni Di qualcuno, di chi? Beh, quello che è emerso è stata l'impreparazione della regione Lombardia Che è stata la regione più colpita E certamente non ti aspettavi Insomma questo ritardo alla fine Per avere il numero di vaccini sufficiente Per coprire quantomeno le fasce a rischio Questo purtroppo è andata così L'iter da quello che è emerso E che a marzo è andata deserta la prima gara Per via del fatto che l'offerta era di risparmiare E quindi volevano pagare sui poco più dei 4 euro Quando costavano 5 Poi sono stati fatti conteggi sbagliati Su quanti vaccini sarebbero serviti Quindi è stata sospesa la gara Poi ne è stata fatta un'altra Però basata sul numero di vaccini dell'anno scorso Che non conteggiava il fatto che in mezzo c'è stato il covid Insomma alla fine sono arrivati a settembre Nel frattempo ovviamente le altre regioni si sono approvvigionate Quindi hanno cominciato a scarseggiare Con una gara d'urgenza E alla fine i vaccini li hanno portati a casa 400 per quelli che servono per le fasce a rischio E 400.000 sono stati pagati 5 volte più del dovuto Vale a dire 26 euro Al posto dei poco più di 5 Che ha pagato la regione Emilia-Romagna e Veneto La storia finisce male Sono state più colpite E tra l'altro poi c'è stata anche la gara con i vaccini cinesi Che non avevano il via libera Queste situazioni di impreparazione Riguardano tutto il paese o alcune aree specificamente? Ogni situazione anche dentro al singolo paese dipende dall'azienda sanitaria Dalla politica regionale Io non le ho studiate tutte Quindi non posso parlare Posso dire quel che ho visto durante questo periodo Come ha lavorato il Veneto Come ha lavorato l'Emilia-Romagna Come ha lavorato la Lombardia Dunque tu hai studiato molto la prima ondata No? Siamo alla seconda I contagi sono in aumento Per ora il sistema sanitario sta reggendo Cosa possiamo però imparare dagli errori fatti all'inizio della pandemia? Beh, l'errore fatto all'inizio della pandemia È anche difficile parlare di errori Perché hai fatto poi quello che hai potuto Con la macchina che avevi Allora, il problema della Lombardia ormai insomma è stranoto Però uno pensa Magari ci pongono rimedio Cosa che non sta avvenendo Ovvero Il problema più grave è stato quello di smontare la rete dei medici di base Dopodiché insomma la sanità privata Accreditata finché ha potuto ha schivato l'oliva Nel frattempo gli ospedali pubblici sono arrivati al collasso Dopo sono subentrati pure loro Cioè in sostanza è stata messa in mare Una nave straordinaria quando il mare è calmo Solo che imbarca acqua quando il mare è in tempesta E sbagliando perché in mare le tempeste arrivano E oggi a guidare quella nave sono ancora coloro che hanno contribuito a costruirla Quindi è difficile venirne fuori Se dovessimo puntualizzare alcuni momenti di crisi della prima ondata che rischiamo di rincontrare Potremmo dire rianimazioni in numero insufficiente Questo rapporto del territorio con cui parlavi Il ruolo dei medici di base Ma anche forse poca autonomia decisionale da parte di chi deve prendere le decisioni importanti o no? Beh insomma chi deve prendere le decisioni importanti le deve prendere Ha la competenza, l'autorevolezza, il ruolo e la responsabilità di prenderle Quindi se non le prende è un problema Di sicuro è che in questo periodo ci stanno segnalando ospedalieri Dei pronto soccorso di Milano, Monza e Varese Che i pronto soccorso si stanno riempiendo di nuovo di malati di covid Cioè per ricoveri normali, non per ricoveri in rianimazione E quindi non sono state fatte le corsie preferenziali Cioè il piano che doveva prevedere un incanalamento Nel caso in cui fosse arrivata una ripresa Cioè tutto questo evidentemente non è stato fatto Tra l'altro segnalano che al pronto soccorso Arrivano in ritardo con polmonite già in corso Quindi diventa difficile curarli con i farmaci che sono disponibili Ora le persone vedono Trump, vedono Berlusconi e pensano Bene, ma per loro è facile arrivare in 24 ore in un ospedale Mediamente anche i tamponi per una persona che ha sintomi Stanno arrivando fra i tre e i quattro giorni E questo diventa poi difficile anche risalire ai contatti Sì, quello dei tamponi Quello che ci è stato segnalato in Lombardia Sta avvenendo anche in alcune zone delle regioni Che sono state le più colpite Perché quelle che le regioni del sud non hanno avuto questo problema E quindi uno diceva Dovrebbero basarsi sull'esperienza altrui Ma tu mi insegni che l'esperienza finché non cadi tu Non impari E quello dei tamponi è stato una delle cose che più hanno colpito L'immaginario e l'esperienza pratica degli italiani che cercavano Queste file immense, queste erano inevitabili Non si poteva in qualche modo prepararsi durante l'estate Evidentemente se non si sono preparati è un problema C'è Altrimenti non ci sarebbero queste file C'è poco da fare Voltiamo pagina Milena Una cosa che ci ha colpito In Europa, l'Italia, siamo nel pieno della seconda ondata In Cina sembra scomparso il Covid Sembra aver sconfitto la malattia È così? Possiamo dirlo con sicurezza? Devi credere ai dati ufficiali Abbiamo visto cos'è successo al medico Wenling Che è stato quello che ha per primo identificato la malattia È stato prima fermato, poi minacciato Dopo l'hanno fatto tornare a lavorare con la bocca chiusa E alla fine è pure morto di Covid Quindi non stiamo parlando di un paese dove c'è la libertà di dire Dici ciò che è consentito dire Oggi i contagiati mi pare che siano 8 Su un miliardo e 4 Se ce l'hanno fatta, se sono veri quei dati, bravi Io ne dubito, però magari sono solo maliziosa Non si può che dubitarne Certo abbiamo visto dei metodi molto spicci, molto diretti Quelli sono tipici di una dittatura Noi non potremmo utilizzarli Insomma, loro vanno dicendo che il modello cinese è superiore al modello occidentale Proprio per l'efficienza con cui sono riusciti a contenere l'epidemia Certo, stiamo parlando di un lockdown duro Nei termini in cui è possibile in un paese autoritario Qui vai a controllare ogni singolo comportamento in un paese democratico Questo tuttavia non assolve i Bolsonaro, i Trump Certo, non è la scusa per comportarsi in maniera irresponsabile Ma si può dire che la Cina ha delle responsabilità sulla diffusione di questo virus o no? Lo ha dichiarato un luminare del diritto dell'Università di Pechino E Wei Fan ha detto questo Ha detto che la mancanza di libertà di parola ha contribuito alla diffusione del contagio Cioè questo è, insomma, è noto che l'informazione è stata data in ritardo E che hanno mentito Questo non sono, non ne sto dicendo io Mi sembra che sia nei fatti Loro, tra l'altro la Cina, ha avuto l'esperienza della SARS nel 2002 La provenienza era la stessa Dichiarati ufficialmente, no? La dichiarazione ufficiale è il virus si è sviluppato nei mercati umidi Vale a dire nei mercati dove vendono animali vivi È vero che con l'arrivo di Xi questi mercati sono stati chiusi Ma chiusi in parte Ovvero è vietato vendere animali selvatici E scuoiarli lì per lì Però è nata parallelamente poi una filiera di mercati neri Dove queste pratiche continuano E comunque nei mercati vivi ancora animali vivi si vendono Non più selvatici Questo nel 2002 Quindi la Cina aveva questa esperienza Può essere che quando stando sempre ai dati ufficiali A metà novembre loro scoprono questa polmonite Annaspano nel buio fino alla fine di dicembre È complicato credere a tutto questo Ciò detto può essere che abbiano ragione loro Non sapevano dove sbattere la testa E in realtà le cose sono andate realmente così Bene, 194 paesi hanno votato all'unanimità La richiesta di una inchiesta internazionale indipendente La Cina al momento Pechino l'ha negata E anche questo è un dato di fatto Tra l'altro la Cina è l'unico paese in una qualche ripresa economica Mentre tutto il mondo sprofonda Abbiamo fatto dei controlli E in fondo non tutti ci hanno perso da questa crisi C'è anche chi ci ha guadagnato anche in Italia Sicuramente il settore delle telecomunicazioni Il settore agroalimentare La farmaceutica Sono tutti i settori che hanno guadagnato Sullo scenario internazionale Chi si è fatto le budella d'oro Sono i grandi dell'online Jeff Bezos è diventato più ricco di 74 miliardi di dollari Per dare un'idea quest'anno Si è arricchito Mark Zuckerberg con Facebook C'è tutto quello che è stato utile durante il lockdown Mai stato così ricco Il creatore del videogioco Fortnite È entrato nella classifica di Fortune Colui che ha creato la piattaforma Zoom La piattaforma su cui più utilizzata appunto Per le videoconferenze Per le call durante il lockdown Sono sempre differenti le situazioni E adesso vi chiedo pochi secondi